Cos'è questo Imperial Suite, Michele? Bah, Imperial Suite è nato circa due anni fa da una serie di esperienze che ho maturato un po' in giro Nel corso del tempo? Del tempo e ho voluto creare un angolo di benessere paradiso qui sulla terra Tu da quanto tempo hai aperto questa attività? Sono due anni che sono accorato Io sono metà accoratino e metà gravinese Mamma coratina, papà gravinese Quindi mi sono trasferito totalmente adesso accorato Ti sei occupato sempre di benessere? No, io nasco nel mondo della ristorazione Nasco nel mondo della ristorazione, sono cuoco, pizzaiolo, chef Beh, poi il salto è stato... Sì, è cambiato, sono stato un po'... Io poi ogni dieci anni mi devo rinnovare Cambio un po' lavoro, cambio moglie, fidanzata Mi devo rinnovare Ecco, vai bene, si capisce che sei un tipo, insomma... Sì, si, estroverso Estroverso, sì Esatto, quindi quando poi hai maturato l'intenzione di aprire questo Imperial Suite che so che davvero è molto bello e funzionante Sì, sì, Imperial Suite quindi... Tante coppie lo scelgono Sì, viene scelto da tante coppie Ho creato un hotel dell'amore Dove abbiamo la vasca di domassaggio Noi possiamo anche cogliere poi l'occasione per regalarci con i nostri partner Un weekend Esatto, un momento di relax, piacere, intimità per la coppia Quindi abbiamo l'idromassaggio, la jacuzzi in camera Luci soffuse, un ambiente molto romantico Ci sono proposte di matrimonio, fidanzamenti, certo Compleanni Quindi ce ne sono cose da raccontare Tante, tante Sono tante emozioni che ogni giorno, insomma, accolgono, accogliamo, insomma Certo, diciamo che davvero sono dei, diciamo, dei regali innovativi, no? Guarda, io dico sempre che con un regalo così non sbagli mai Perché col benessere non si sbaglia mai Abbiamo tutti bisogno di... Oggi con la vita stressata abbiamo tutti, insomma, lavoro, impegni Non riusciamo mai a ritagliarci dei momenti particolari, magici per la coppia E quindi ho creato questa situazione dove c'è la jacuzzi, c'è la sauna Possibilità di massaggi di coppia, apericene, aperitivi A base di mare, di terra E anche perché richiamo un po' la mia esperienza passata Quello che è il mondo della ristorazione Quindi c'è sempre quel tocco Ecco, viene sempre fuori E la vena Esatto Esatto Che vado a concludere Perché ovviamente quando stai bene con il fisico, con il gusto Ci si sta bene a 360 gradi E quindi in camera noi serviamo anche degli ottimi aperitivi Allestimenti romantici Coccolate queste coppie Coccolate al mille per mille Proprio perché, ripeto, io la sto vivendo come una missione Perché è veramente importante dedicarci dei momenti... Perché molte volte con il lavoro, gli impegni, i figli, ne sento molti che mi raccontano che non hanno più quei momenti di intimità Per loro E quindi ci sono io, non io, c'è l'Imperial Suite a regalare questi momenti A risolvere questo problema della mancanza di intimità Di crisi, chiamiamola così Cercano, magari il mediatore di una... Cerca di recuperare, di ricucire un rapporto Esatto, abbiamo avuto, sì, tanti casi di coppie che abbiamo anche recuperato Salvate proprio così da un black Una soddisfazione perché comunque abbiamo creato tutta la situazione, la location Magari un messaggio sul letto Mi vuoi sposare Mi vuoi sposare, perdonami Che bello Cose belle, sì, sì, sì Senti, io ho visto anche delle immagini, queste lenzuola con questi petali, petali di sistemi tu No, abbiamo lo staff che ci... che dedica, insomma, allestimento della stanza, dei palloncini, le candele Poi è un ambiente molto soffuso, un po' richiama l'etnico con questi incensi, profumi Insomma, è abbastanza particolare È curioso, è da visitare più che da raccontare È da visitare, infatti Mentre poi tu parli, la regia sta mandando appunto in onda le immagini, i video... Sì, loro sono ad esempio una coppia che hanno scelto Imperial Suite Accorato Dove lui ha fatto questa proposta di matrimonio E lui era emozionatissimo, infatti quando mi chiamò, disse Mi chiede, non so cosa devo fare, com'è, disse, non ti preoccupare, sei tranquillo, ce la vediamo tutto noi Ed è stato bellissimo Che bello È emozionata, insomma, alla fine ha detto di sì Beh, è vincere, è vincere, è contento È contento È contento Esatto Angela, che dici, tu vuoi portare tu... hai qualche messaggio da... No, dovremmo ricevergli messaggi più che darli Ma guarda, oggi le sorprese le fanno sia la donna che l'uomo Sì, anzi, forse più la donna Ah, è vero, è vero Siamo diventate più noi donne corteggiati È vero, è vero, sono cose belle Ci siamo emancipate anche in questo Brava È vero E Michela è fidanzato, è sposato, è innamorato? Che si occupa dell'amore degli altri Io faccio innamorare degli altri Michela invece, tu sei cupido, ma nella vita privata? Un cupido a metà, dai, diciamo... Ne, saper nascere Facciamo innamorare, sono bravo a far innamorare Vabbè, ma devi pensare anche un po' a te Quindi lanciamo un appello televisivo Ma che... Va bene, dai, un applauso per questo Vediamo, ti faremo sapere se qualcuno ci scrive Ti faremo sapere Continuiamo a parlare di benessere Lo facciamo con queste due meravigliose donne Con Angela e Patrizia Che rappresentano il centro Afrodite a Parletta Angela, Patrizia Raccontateci invece la vostra formula di benessere Michela ce l'ha raccontato la sua, no? Raccontateci voi invece Il nostro connubio come è iniziato Come l'abbiamo pensata Ecco, ho pensato di iniziare questa collaborazione con Patrizia Perché lei si occupa di olistico Quindi siccome io ho un centro Quindi siccome io ho pensato di iniziare questa collaborazione con Patrizia Come l'abbiamo pensato di iniziare questa collaborazione con Patrizia